Anche qui rappresentate da persone che vivono in queste terre, in questi vostri territori, storie di persone che hanno resistito, che ci hanno provato, perché non dobbiamo parlare solo di mafia, dobbiamo parlare di corruzione, dobbiamo parlare di resistenza in queste terre in cui ci sono le aziende, di resistenza alla penetrazione della mafia. Non è un problema nostra, è un problema di tutti. Là dove ci sono soldi? C'è sicuramente.